Buongiorno a tutti, continuiamo la trattazione del novellino, siamo al capitolo 62 e qui conta una novella di Messere e Ruberto. L'intera vicenda è semplicemente pura evasione, è scritta proprio per dilettare l'ascoltatore, qui in realtà non c'è un vero e proprio messaggio morale, non è il classico racconto utilizzato per veicolare quindi un insegnamento, ma è semplicemente scritto per divertire l'ascoltatore o il lettore. Sappiamo bene che tra il 200 e il 300 con l'ascesa di questa classe mercantile borghese sicuramente il desiderio non è più solo quello di essere istruiti ma anche quello di evadere, di leggere storie piccanti, divertenti, burle, beffe e così via e infatti questa storia è sicuramente legata anche ai fablieux francesi. Il termine fablieux deriva da fabula in latino ed è un racconto, una breve storia, un breve componimento però in versi, infatti scritto in langue d'huile, in lingua d'huile dal nord della Francia ed era diffuso soprattutto nel XIII secolo dopo Cristo, quindi siamo nel 200, lo stesso secolo in cui poi fu scritto il novellino. Ecco, dal fablieux si ricavano proprio questi elementi di burla, di beffa e soprattutto queste storie divertenti, spesso anche piccanti, salaci come sarà anche la nostra storia perché è incentrata di nuovo sul tema sessuale che ritorna spesso come potete ben vedere e sentire. Ve ne accorgerete subito perché qui la storia sembra apparentemente innocente, in realtà cela un'allusione sessuale davvero potente perché in realtà queste donne che adesso diventeranno monache non perdono il vizio e continueranno a peccare anche dopo essersi ritirate in un convento. A Rimini Monte si è in Borgogna, in Borgogna c'è, si trova a Rimini Monte, questo Remirmont e notiamo subito l'italianizzazione del termine francese, a Rimini Monte, Remirmont ed è un elemento che succede spesso, il raccoglitore traduce spesso questi termini stranieri in volgare fiorentino e avio un sire che si chiama Messere Ruberto, quindi c'è questo signor Ruberto che vive in Borgogna, quindi è sicuramente un signore, un nobile, comunque una persona d'alto lignaggio ed è contado grande e c'è una grande contea, quindi siamo sempre in quel mondo nobiliare tanto amato e tanto anche imitato dalla classe mercantile borghese che tenta di assomigliare, di assimilare tutti i costumi, le usanze, le credenze della nobiltà, però in realtà di fatto non è parte integrante della nobiltà perché la nobiltà vera non accetta ovviamente i nuovi arrivati perché li considera di serie B, la vera nobiltà è di nascita, quindi ciò che conta è il sangue, quindi siamo in Francia, non a caso, come dicevo prima i Fablieux sono francesi scritti in Langue d'Oille e quindi abbiamo un riferimento ben preciso. La contessa antica e i suoi camerieri si avevano un portiere milenso, quindi la contessa, la padrona di casa e le cameriere avevano un servitore che era milenso, cioè era balordo, era particolare ed era molto grande della persona, quindi aveva una stazza di un certo tipo, bello tozzo, alto, imponente e aveva nome baligante. L'una delle cameriere cominciò a giacere con lui, poi il manifestò a un'altra, tanto che così andò infino alla contessa, quindi una ha un rapporto sessuale con lui, poi ovviamente loro spettegolano e a poco a poco questa notizia arriva fino alle orecchie della contessa. Sentendo la contessa che gli era a gran misura, cioè non solo che era a grande distanza, ma sentendo soprattutto che avesse anche il membro virile di grande dimensione, quindi ha ovviamente l'organo genitale maschile bello imponente, giacque con lui, quindi il desiderio della donna è proprio quello di trovare degli amanti in grado di soddisfarla e non perde poi l'occasione per darsi piacere, quindi per trovare anche lei un appagamento sessuale, quindi di sesso si parla come nel Medioevo, non è assolutamente un tabù, era una cosa diffusa e soprattutto se ne parla e sì, poi ci si pentiva, sicuramente ci si confessava, però si continuava lo stesso a praticarlo. Il Sire le spiò, cioè il Signore, questo Conte, Ruberto, le ha spiate, fecero ammazzare e del cuore fe fare una torta. Il Signore non perdona, le vuole punire in maniera esemplare e quindi addirittura fa strappare il cuore, prima lo uccide e poi utilizza il cuore per farne una torta. Ecco, questo elemento lo ritroveremo ancora anche nel Decameron di Boccaccio, perché è proprio un topos letterario, un'immagine che ritorna spesso e che ricorre quindi nei racconti e quando sarà il momento poi lo troveremo anche lì. E presentò la Contessa e alle sue cameriere e Mangiarola. Notate la straordinaria sinteticità, la rapidità con cui il novellino racconta le storie, in pochissime parole abbiamo intere sequenze di immagini, quindi è molto veloce, è una sintassi fortemente paratattica che esclude quindi i periodi ipotattici o particolarmente elaborati. Dopo il mangiare venne il Signore a corteare, bello questo termine, corteare, ha in sé la radice di corte cortese, cioè iniziano a dialogare, a chiacchierare, perché nella corte questo si fa anche, si intrattengono delle relazioni sociali, è il centro sociale più importante del tempo, soprattutto per i nobili e domandò, quente fu la torta? Questo quente significa come fu, cioè come è stata, come l'avete trovata questa torta? E tutte risposero, buona, cioè è stata davvero gustosa. Allora rispose il Sire, ciò non è meraviglia, che baligante vi è piaciuto vivo se lì vi piace di morto, quindi non c'è da stupirsene, non vi può non piacere da morto se vi è piaciuto da vivo e con questa battuta macabra, perché in realtà è una battuta attraverso la quale lui rivela il suo crudele delitto, il suo misfatto, perché di fatto adesso si autodenuncia, si autoaccusa, in realtà vuole dare un importante insegnamento e un grande monito a queste donne e non c'è possibilità di replica, perché ormai l'hanno mangiato, non si può più tornare indietro e la contessa e le cameriere quando intesero il fatto si vergognarono e videro bene che le avevano perduto l'onore di questo mondo, perché non solo hanno tradito il proprio signore, ma la moglie ha tradito il marito, quindi stiamo parlando anche di adulterio e soprattutto di mancanza di pudore, di ritegno e qui viene punito l'impulso sessuale che sembra un vero e proprio desiderio irrefrenabile, irresistibile, come accade anche nella Divina Commedia. Non si viene puniti per l'adulterio, ma per questa mancanza di autocontrollo, quindi l'eccesso viene sempre punito e proprio per la vergogna, per l'incapacità di guardarsi allo specchio, per quello che hanno commesso, decidono di ritirarsi in convento, ma voi direte per espiare le colpe, quindi nel Medioevo erano molto fissati con il pentimento, col desiderio di essere salvati, ci tenevano tantissimo insomma ad evitare l'inferno di fuoco, la dannazione eterna, in realtà non è così, perché vedremo che queste donne non perdono il vizio, quindi sì, potremmo anche parlare forse di misoginia, in realtà qui si sta semplicemente deridendo e scarnendo in maniera anche un po' pelata, un po' nascosta, questo desiderio che tutti gli uomini nascondono, di cui nessuno parla volentieri o comunque c'è sempre un po' di timore, di vergogna, in realtà era praticato e amato da tutti, donne comprese. A rendersi monache, quindi sì, e fecero monache, e fecero un monistiero che si chiama il Monistiero delle Nonane di Rimino Monte, di nuovo di Remirmont, che viene nuovamente tradotto in fiorentino. La casa crebbe assai e divenne molto ricca, come sempre poi i fedeli lasciano donazioni, dei lasciti, terre e beni mobili e immobili, quindi ricchezze che piano piano si accumulano e il monastero inizia a prosperare. E questo si conta in novella che vera e che vè questo costume e da quel momento poi si racconta una storia su questo convento, come sempre poi nascono delle curiosità, degli aneddoti che poi si diffondono in tutto lo Stato, in tutta la contea e si inizia a parlare, a sparlare, a spettegolare. E qual è questo costume, questa usanza? Che quando egli vi passasse alcuno gentile uomo con molti arnesi, quando cioè passasse per questa contea un uomo nobile, gentile significa nobile, con molti arnesi, quindi con tanti bagagli, con tante valigie, in realtà già qui arnese allude anche all'organo sessuale maschile, quindi in realtà con tanti arnesi, cioè ben dotato, ed elle il facevano invitare e facevano grandissimo onore, quindi quando se ne accorgevano lo invitavano volentieri a soggiornare presso il loro monastero. E la badessa e le suore li veniano incontro e il sul donneare, quindi quando era il momento di chiacchierare, sentite donneare perché il dialogo continuo, il pettegolezzo e soprattutto quel chiacchiericcio però curioso che vuol sapere tutto sul conto del proprio interlocutore, del nuovo arrivato, è una caratteristica tipicamente femminile, sempre associato alla donna. Infatti gli antichi Cicerone, ma non solo, dicevano che la vera donna, quella virtuosa con la D maiuscola, era la donna muta, quella che sapeva tacere, c'era addirittura una divinità che i romani avevano dedicato alla dea muta, proprio a questa donna, quindi che doveva essere proprio un modello di virtus per tutte le donne, un modello da imitare. Quella che più il piacesse, quella gli servia e accompagnava a tavola e a letto, quindi lo accoglievano, chiacchieravano con lui e quella che poi più gli piacesse, quindi quella che lui trovava più piacente, lo accompagnava per tutto il giorno e la sera, gli preparava da mangiare e poi lo accompagnava anche a letto, quindi gioceva insieme con lui. In pratica trasformano il monastero in un harem, perché sono tutte disponibili e sta al visitatore scegliere quella che più gli aggrada. La mattina si si levava e trovava lì l'acqua e tovaglia. Danno comunque grande importanza all'ospitalità, ma come ben sappiamo nessuno fa niente per niente, bisogna avere qualcosa in cambio e nel loro caso è appunto l'appagamento sessuale. Quindi sì, si ritirano in convento, tentano comunque di essere donne migliori, ma non possono farlo perché è nel loro DNA, cioè in ognuno di noi c'è luce e ombra, questo desiderio di peccare che in realtà risponde a un bisogno naturale. E quando era levato ed ella gli apparecchiava un ago voto e un filo di seta, quando poi si levava, cosa faceva la monaca? Gli preparava un ago e un filo di seta e convenia che se gli si voleva affibbiare da mano, se voleva cioè farsi cucire la manica della camicia appunto sulla camicia, che gli mettesse lo filo nella cruna dell'ago, cioè doveva assolutamente prendere il filo e infilarlo in maniera corretta all'interno della cruna del lago, cioè nel buchetto del lago. E se alle tre volte avvisasse che non lo vi mettesse, quindi aveva a disposizione tre tentativi, se gli togliano le donne tutto su arnese e non li rendeano niente. Non solo avrebbe fatto brutta figura, ma soprattutto le monache avrebbero tolto tutti i suoi bagagli, lo avrebbero privato di tutti i suoi averi, avrebbe perso tutto, se ne sarebbe tornato a casa povero. E se metteva il filo alle tre nel lago, se invece entro i tre tentativi riusciva a farlo, si li rendeano l'arnese suo e donavali di belli gioielli. Se invece riusciva a soddisfarle ed a pagarle, allora non solo gli rendevano tutti i suoi averi, ma addirittura donavano un sovrappiù dei gioielli, delle ricchezze, perché sono monache che stanno molto bene. Hanno adesso un monastero ben avviato, che cresce sempre di più, sempre più ricco e quindi non hanno problemi economici. Naturalmente l'allusione sessuale qui è palese, anche l'aggancio con i fablieux francesi. Il divertimento immorale è implicito, ma un ascoltatore del tempo avrebbe capito subito il doppio senso, perché infilare il filo nella cruna del lago semplicemente rappresenta un rapporto sessuale. Il filo è l'organo maschile e la cruna del lago quello femminile. Quindi qui stiamo parlando di tre tentativi e se lui avesse fallito, perché non era particolarmente dotato, oppure semplicemente perché in quel momento non riusciva, ecco che avrebbe perso tutto. Nasce un'usanza molto particolare e queste donne continuano, liete e spensierate, a trarre piacere da tutti gli ospiti che passavano presso il loro monastero. Come sempre noi ci vediamo alla prossima lezione. A presto!